ringrazio naturalmente Anna Dolfi, Carlo Patrono, amici della Giunta di Vigilanza per questa bella presentazione e passo quindi al tema che appunto è già stato ben introdotto sicuramente e per cominciare in realtà mi riferisco alla quotidianità e ad una notizia che è comparsa nei quotidiani italiani nel settembre del 2022, notizia passata in realtà del tutto inosservata che però ha un certo interesse e costituisce un buon punto di partenza per il nostro incontro di oggi. La direzione delle poste italiane ha deciso di smantellare più di un terzo delle vecchie cassette postali, quei cubi di colore rosso che sono presenti un po' ovunque nelle strade delle nostre città e le ragioni di questa scelta sono di carattere strettamente economico. Imbucare una lettera oggi è un gesto che si compie sempre più raramente tanto che ogni anno il numero delle lettere spedite si riduce all'incirca del 20% e così l'articolista di Repubblica con una sintesi giornalistica efficace anche se un po' riduttiva titolava il pezzo in cui si dava conto di questa vicenda. Poste taglia oltre un terzo delle cassette delle lettere, l'Italia non le usa più. Le ragioni di questa crisi profonda sono facilmente individuabili. Scrivere una lettera è una pratica scrittoria che ormai viene percepita come obsoleta, sostituita dall'avvento sempre più invasivo della produzione di test in formato digitale e mi riferisco evidentemente all'enorme quantità di messaggi che viaggiano in forma di mail o attraverso i social e a ben pensarci questi nuovi veicoli di informazione offrono una serie di vantaggi. Innanzitutto l'immediatezza nella redazione del testo perché il linguaggio che si usa in essi è privo di qualsiasi formalità. È ancora la rapidità dell'invio e della ricezione e poi, fatto non indifferente, i costi irrisori o addirittura inesistenti. Tutto questo ha segnato un allontanamento progressivo ma credo inesorabile e irreversibile dal supporto cartaceo che è il supporto tradizionale per le scritture delle lettere. Dunque viene tracciata una sorta di linea di confine generazionale. Da una parte coloro come me, come credo la maggior parte dei presenti in questa sala, che in varie occasioni della loro vita, penso per esempio alla nostra adolescenza, hanno preso carta e penna per scrivere una lettera. E dall'altra parte invece i più giovani, che abituati fin da bambini a tenere in mano un cellulare, non l'hanno mai fatto e molto probabilmente non lo faranno mai. E tra i tanti mutamenti che sono imposti dalle nuove tecnologie, dalle nostre abitudini quotidiane, questo è davvero uno dei più significativi, se non altro perché va a interrompere un processo di lunghissima durata, perché per circa 5 millenni, 5 millenni la lettera scritta a mano su materiali di vario tipo, qui vedete la terracotta, il legno, il papiro, ma anche la membrana e la carta, ha costituito uno strumento di comunicazione semplice, efficace e appunto insostituibile. Ovviamente sarebbe molto utile cercare in questa sede di abbozzare una storia della lettera prima di arrivare al caso che ci interessa di più, ovvero quello di Leonardo da Vinci e delle sue lettere manoscritte, ma questo non è possibile per ragioni di tempo. Possiamo però soffermarci su alcuni casi concreti riguardanti l'Italia del tardo medioevo e della metà moderna per tentare di comprendere chi scriveva lettere nel mondo di Leonardo, quali erano i loro contenuti, con quali strumenti erano scritte e quali funzioni avevano. Queste quattro domande di cosa, come e perché non sono casuali e ci riportano alla lezione del più grande biografo italiano del Novecento, il linceo Armando Petrucci, che voglio ricordare qui con grande affetto e riconoscenza e Petrucci nel suo ultimo libro Risalenta al 2002, scrivere lettere, una storia plurimillenaria, affrontava propri temi di cui stiamo trattando oggi dal suo punto di vista. Dunque scrivere lettere come pratica grafica, come pratica materiale e come pratica sociale, secondo una metodologia applicata in tanti suoi fondamentali contributi negli ultimi quarant'anni del Novecento. Dunque cominciamo con un cenno alle caratteristiche fisiche delle lettere che circolavano in un periodo esteso dal Trecento al Cinquecento. La prima cosa da dire è che, salve eccezioni piuttosto rare, venivano scritte su carta, supporto utilizzato anche per la copia dei manoscritti, per i quali però si usava anche la membrana, e che gli strumenti di scrittura erano quelli più diffusi in quell'epoca, ovvero la pennadoca, il calamaio, lo vediamo da questa miniatura, da questo dettaglio, e un inchiostro in realtà dalla composizione diversa rispetto a quelli a cui siamo abituati, perché era un inchiostro realizzato a base di tannino, materiale che si ricava da escrescenze che si trovano sugli alberi della quercia, alle cosiddette noci di galla. Quanto al formato, il formato più comune per le lettere era il cosiddetto in foglio rezzuto, che corrisponde più o meno ai fogli che tiene sul suo scrittoio questo scrivente di cui parleremo tra un attimo, e che ha uno stretto rapporto di parentela con il nostro A4. Per quel che riguarda invece le scritture e le modalità di impaginazione, un buon esempio può venire dall'esame di una delle tredici lettere autografi di mano di colui che è rappresentato in questa miniatura e che può essere ritenuto il più grande poeta e direi anche uno dei più grandi intellettuali del secolo quattordicesimo, ovvero Francesco Petrarca. Questa lettera, risalente al 1365, Petrarca l'indirizza ad un amico, Moggio Moggi, un personaggio che aveva conosciuto una ventina d'anni prima, da lui molto stimato, gli aveva affidato anche l'educazione del figlio Giovanni. La scrittura, come vedete, è una cancelleresca molto elegante, armonica, ben allineata, insomma si capisce che Petrarca scriveva molto bene. Il testo è scritto con andamento parallelo al lato corto del foglio, tenete presente che questo foglio era stato tagliato a metà, e al termine di questa missiva troviamo l'indicazione della data, posta al centro dell'ultimo rigo, e nell'angolo inferiore destro la firma, o per meglio dire la sottoscrizione. Vedete c'è in realtà scritto F, che sta per Franciscus, TUS, e quella F è assolutamente caratterizzante, è un marchio distintivo di Petrarca, la usa sempre quando deve indicare il suo nome. Passando alle modalità di spedizione, in mancanza della busta che fa la sua comparsa solo nel secolo XVIII, ci si rimetava a piegare il foglio in due o tre pliche orizzontali e due pliche verticali, e la lettera così preparata riceveva, come vedete, l'indicazione del destinatario in uno spazio quadrangolare che era rimasto bianco al centro, veniva a quel punto dotata di sigillo ed era pronta per partire. Per concludere questo breve quadro introduttivo di insieme, possiamo fermarci un momento su alcune delle numerosissime funzioni che in quell'epoca erano affidate al test epistolare. La prima era sicuramente quella informativa. Basti pensare all'uso che della lettera facevano i mercanti, i mercanti che vedevano nelle lettere un modo per avere una continua conoscenza degli eventi che segnavano la piccola e la grande storia, eventi che influenzavano quindi anche le scelte delle compagnie di commercio. In quegli ambienti, negli ambienti mercanteschi, l'attività di scrittura era continua, secondo quanto testimoniato, ad esempio da un serbatoio straordinario, quello fornito dalle lettere che facevano parte di un archivio, quello di Francesco Di Marco Datini, sono 125.000 lettere che ci sono giunte intatte, perché quell'archivio era stato murato ed è riemerso sul finire dell'Ottocento. La lettera naturalmente era anche un modo per trasmettere disposizioni e ordini che talvolta potevano riguardare anche l'acquisto di libri. È il caso ad esempio della missiva inviata il 13 luglio del 1360 da Francesco Bondelmonti a Giovanni Acciaioli. L'interesse di questa lettera proviene dal fatto che in essa si legge la più antica testimonianza dell'esistenza di una copia del Decameron di Giovanni Boccaccio, che in quegli anni cominciava a circolare e in effetti quella copia viene impetuosamente reclamata dallo scrivente. Domine Reverende, ecco che Monte Berandi scrive alla moglie e vedi il libro delle novelle di Messer Giovanni Boccaccio, il quale libro è mio, sicché vi priego quanto un possum che ve lo facciate donare. La preoccupazione di avere quel volume che sembra essere un best seller già molto ricercato è sottolineata dalla notazione finale posta nel verso del foglietto cartaceo. E guardatevi del libro mio di prestarlo a Ser Nicolò, però che egli ne sarà ladro. Scrivere lettere era anche un modo per cercare di sfuggire allo stato di isolamento in cui ci si poteva trovare, per varie ragioni, prima fra tutte l'esilio, quasi sempre inflitto per motivazione di tipo politico. E dunque possiamo osservare da una parte il caso di chi partiva, come il cittadino senese Ghinozzo di Tommaso Allegretti, che in seguito al fallimento di una congiura in cui era coinvolto, nel 1406 è costretto ad andare da Siena a Bologna e ne dà notizia ai priori al Capitano del Popolo. Al nome di Dio, amen, magnifici signor miei. Nanni e Mariano, miei fratelli, mi avvisarono come per lo consiglio generale fu provveduto per buona cagione che 21 dei ribelli andossero ad abitare 80 miglia di longa dalla città di Siena o più, come fosse di loro piacere, e che si mandasse la carta della rappresentagione. Per la qualcosa io sono disposto a obbedire, ora e tante volte, quanto sarà di vostro piacere i vostri comandamenti, ed ho preso per mio confino la città di Bologna. Dall'altra parte però c'era chi restava a casa, ovvero le donne, che spesso scrivevano ai mariti lettere, cito Luisa Miglio, imbevute d'affetto e di disperazione, per una lontananza sempre più insopportabile, ma lo facevano con i loro poveri mezzi grafici, servendosi di scritture rozze, incerte, segnali di un'educazione che rimaneva quasi sempre a un livello elementare, anche quando si apparteneva a famiglie benestanti. È il caso di Maddalena Strozzi, nata nella più ricca famiglia di Firenze, figlia del mercante e banchiere Palla di Nofri, che quando scriveva le sue lettere al marito lontano, Neri di Donata Ciaioli, siamo intorno al 1420, si serve di una scrittura bizzarra, anarchica, tanto da sentire il bisogno di chiedere al marito, che l'aveva incoraggiata a prendere la penna in mano, di essere comprensivo. Lui mi dicevi pure che io ti scrivessi, sicché ti scrive il meglio che so, sicché non ti far beffe di me. Da ultimo restano naturalmente le lettere d'amore e anche per esse possiamo ricorrere ad un esempio femminile. Mi riferisco ad una giovane vedova, Maria Savornian, che tra la fine di maggio e la metà di luglio del 1500 iniziò una relazione amorosa con uno dei padri della lingua italiana, Pietro Bembo, all'epoca ancora molto lontano dalla porpora cardinalizia. Di Maria restano ben 77 lettere, edite da Carlo Dionisotti nel 1950, che mostrano un rapporto complesso con Pietro, in cui si intreccia la dimensione letteraria colta e l'impeto della passione travolgente, che trova espressione in richieste ricorrenti e imperiose, come ad esempio in questa lettera. Sapiate che voglio che mi ammiate sopra tutte le cose, e se non podesti o volesti, apposta vostra, perché questo voglio, per forza e per vostro dispecto, o o o e basa. La scrittura di Maria è certamente più abile di quella di Maddalena Strozzi, ma manca di equilibrio e di misura, tanto da apparire ben diversa da quella calibratissima di Pietro, con la quale si confronta nelle missive in cui Bembo ritiene opportuno aggiungere delle postille. Si vede ad esempio questo brevissimo biglietto, dal test incompiuto, in cui Maria manifesta ancora una volta con immediatezza i suoi sentimenti. Sorriduta tanto che non pasa ora che con dolce pensier di voi a me, di il principio al fine non sia discorsa. E queste parole vengono commentate da Pietro con una notazione tra parentesi, molto piccola, posta immediatamente al di sotto, vergata nella sua corsiva umanistica, scarna ed essenziale, non fu finita, forse per non ma crescere tanta felicità. La storia d'amore Bembo Savorniana ci ha condotto fino alle soglie del Cinquecento, siamo dunque giunti nell'età di Leonardo. Qual era il rapporto tra il genio universale e la scrittura? E cosa sappiamo delle sue lettere? Cominciando dalla prima domanda, credo che avesse ragione Paola Magni quando alcuni anni fa, per rappresentare la produzione manoscritta di Leonardo, utilizzava l'immagine di un labirinto, un labirinto da cui si viene irresistibilmente a tratti ma in cui c'è sempre il pericolo di perdersi. Il numero degli autografi vinciani che ci sono giunti è straordinariamente alto, più di 4100 carte, che in origine dovevano essere molte di più. Una buona parte di questi scritti contengono insegnamenti tecnici, scientifici, frutto di riflessioni che erano originali o che nascevano dal confronto con gli octores antichi e moderni, i cui testi venivano spesso selezionati, interpretati, riscritti in una continua rielaborazione interiore. Vi sono però anche testi estemporanei, ricette, sentenze, favole, proverbi, appunti grammaticali, facezie e molte pagine che rappresentano il risultato di un dialogo interiore con se stesso. E poi naturalmente tantissimi disegni a vari gradi di elaborazione formale che si pongono in un rapporto continuo di relazione con la parola scritta. Scorrendo questi materiali magmatici si ha la precisa percezione che colga nel segno Carmen Bambach quando afferma che Leonardo è probabilmente il primo artista che vuole assegnare un'importanza decisiva allo schizzo e a dichiarare esplicitamente la superiorità ideativa e la potenza generativa del non finito rispetto al finito. Non casualmente, in alcuni suoi pensieri contenuti nel manoscritto A dell'Istituto de France, Leonardo sostiene che il buon pittore deve avere sempre con sé un piccolo libretto per poter compiere disegni dal vivo, lasciandosi ispirare dagli atteggiamenti che assumono gli uomini. Quando tu avrai imparato bene di prospettiva e avrai a mente tutte le membre e corpi delle cose, sia vago e spessi a volte nel tuo andarti a sollazzo vedere e considerare i siti e gli atti degli uomini, in nel parlare, in nel contendere o ridere o azzuffare insieme e quelli notare con brevi segni in questa forma su uno tuo piccolo libretto, il quale tu devi sempre portare con teco, che sia di carte tinte, a ciò non l'abbia a cancellare ma mutare di vecchio e nuovo, che queste non sono cose da essere cancellate, anzi con gran diligenza serbate. È importante notare che Leonardo specifica che quel libretto deve avere una particolare caratteristica, essere costituito da carte tinte, in modo che quelle annotazioni non possano essere cancellate ma restino sempre a disposizione dell'artista perché la memoria non sarebbe capace di ritenerle. Questo dettaglio si riferisce probabilmente all'uso di carte tinte d'azzurro o di grigio sulle quali si tracciavano disegni con punte metalliche che non potevano essere rimossi. Un simile processo riguardava anche l'elaborazione della parola scritta, per la quale Leonardo procede per gradi, perverso varie fasi. Piuttosto che giungere subito a definizioni stabili, egli ritiene necessario tornare più volte su quanto già scritto e per questa ragione deve essere puntualmente registrato e conservato. Insomma, siamo dinanzi ad un processo di scrittura totale che non prevede alcuna rimozione di quanto è stato elaborato, ad una fortissima volontà d'archivio che di rado si ripresenterà nei grandi della letteratura italiana, pensa a Giacomo Leopardi o Carlo Emilio Gadda e che ha una importanza decisiva nella conservazione dei suoi materiali epistolari. È vero, non possediamo nemmeno una lettera autografa spedita da Leonardo ad un destinatario, ma abbiamo diversi esempi di testi preparatori che possono lasciare intendere quali dovevano essere le caratteristiche di queste lettere che con ogni probabilità abbiamo perduto per sempre. Prima di esaminare questi materiali, però, dovremo fare un breve scena alle principali caratteristiche della scrittura di Leonardo. E la prima cosa da dire è che Leonardo si serviva di una tipologia grafiche più diffuse della sua epoca. La mercantesca, una scrittura nata per l'appunto tra la borghesia cittadina, toscana, impegnata in attività artigianali, mercantili, bancarie, inizialmente scrittura di mestiere, poi invece scrittura utilizzata da un enorme numero di scriventi, compresi molto artisti. E quanto alle modalità esecutive possiamo distinguere due livelli. una scrittura d'uso che lui adopera principalmente per rapidi appunti. Qui per esempio vediamo un dettaglio tratto da un codice della Tribulziana di Milano, in cui, come vedete, abbiamo l'illustrazione di un inganno che viene tesa ad un esercito nemico e al di sotto invece, con il solito atteggiamento leonardesco che passa con grande facilità da un argomento all'altro, delle considerazioni sulla luce e sul magnetismo, e poi una scrittura formale invece, impiegata ad esempio nelle didascalie dei disegni di più alto profilo artistico, come questo celeberrimo paesaggio della Valle dell'Arno, che come vedete è dotato di indicazione di data di 15 d'agosto 1473. E da ultimo dovremo anche fare un cenno però all'aspetto più originale dell'esperienza grafica di Leonardo, ovvero l'abitudine di scrivere non da sinistra a destra, ma da destra a sinistra. Le didascalie delle immagini che stiamo osservando, non so se l'avete notato, presentano l'indicazione immagine riflessa, proprio perché nella realtà l'andamento della scrittura di Leonardo è speculare rispetto a quello che state vedendo, del resto lo potete vedere proprio dal disegno della Valle dell'Arno, l'originale è in alto a sinistra, immagine riflessa in basso a destra. Perché Leonardo scriveva alla rovescia? Per lungo tempo è stato sostenuto che ciò dipendesse da una volontà di creare un sistema di scrittura crittografico, quindi un sistema che doveva proteggere il contenuto dei suoi studi e delle sue riflessioni, una scrittura segreta. Questa tesi però ormai è stata ampiamente confutata in diversi studi che dai primi del novecento in poi hanno puntato l'attenzione invece sul mancinismo di Leonardo. Sappiamo infatti che Leonardo era mancino e che i mancini hanno la tendenza a rovesciare mentalmente i caratteri e i segni che devono riprodurre. Perché però, a differenza dei suoi coetanei, Leonardo sarebbe un mancino non corretto? Ecco, a questo proposito è opportuno ricordare che egli era figlio illegittimo, nato da una relazione passeggera che il padre Piero, che importante notaio di Firenze e che stava per sposarsi, aveva avuto con una donna di cui conosciamo solo il nome, Caterina. E proprio lo status di illegittimità avrebbe spinto Piero a non investire tempo, denaro nell'educazione del figlio che quindi sarebbe stata molto libera e priva di costrizioni. Questa ricostruzione è sostanzialmente soddisfacente ma ha bisogno di qualche approfondimento. Leonardo, infatti, sapeva scrivere anche da sinistra a destra, come noi, secondo quanto attestato da un buon numero di testimonianze autografe. Qui vedete ad esempio uno studio sugli organi vitali in cui gli organi che si trovano sulla sinistra sono riportati con scrittura da destra a sinistra. I due organi che si trovano sulla destra, Milza e Rognoni sono raffigurati invece con scrittura da sinistra a destra. Tenevo presente che quindi, a mio parere, la sua educazione grafica, visto che si sapeva senza alcuna difficoltà a scrivere da sinistra a destra e presumibilmente lo faceva con la mano destra, fu un'educazione grafica convenzionale, come quella di qualsiasi altro bambino di quei tempi. e le pratiche di alfabetizzazione erano estremamente severe. In quel momento il mancinismo non era tollerato. Dunque Leonardo molto probabilmente imparò a utilizzare la destra, ma a differenza dei suoi coetanei, fin dalla prima fanciullezza manifestò questa eccezionale attitudine ad usare la sinistra per disegni e per scritture anche retroverse, di grande eleganza. Testimonianze che non sostituivano, ma affiancavano le usuali invece esecuzioni destrorse. Una ricostruzione di questo genere mi sembra più credibile, anche se lascia aperto un interrogativo. Resta da capire infatti perché Leonardo sceglie la scrittura mancina come la modalità quasi esclusiva per esprimersi attraverso la comunicazione scritta. Ma di questo, se volete, potremo parlare alla fine dell'intervento. Arriviamo finalmente alle lettere e occorre subito dire che non sappiamo molto di questa attività epistolare, ma è ragionevole pensare che Leonardo, divenuto ben presto un personaggio d'eccezione, abituato a tenere contatti stretti con destinatari di tanti livelli sociali diversi, dunque artigiani, artisti, politici, signori, principi, allievi, familiari, è molto probabile che scrivesse un gran numero di lettere per tessere questa rete di relazione, no? E questa gran massa di materiale epistolare è quasi completamente perduto. Di esso restano pochi frammenti, per lo più conservati, come è stato detto all'inizio, nelle carte del Codice Atlantico in forma di abbozzi posti su carte volanti. A questo proposito facciamo parola specifica. Questo celebre manoscritto conservato a Milano, presso la Biblioteca Ambrosiana, nonostante la denominazione non è un vero libro, non è un codice, è una sorta di album che appunto è stato messo insieme unendo in cornici dei fogli sciolti appunto di mano di Leonardo. Tra l'altro questo codice è oggetto anche di una riproduzione facsimilare proprio a cura dei lincei alla fine dell'Ottocento. Il punto di partenza in realtà per le mie considerazioni però è questo studio molto importante di Pietro Marani, uno studio del 2019, un volume in cui per la prima volta sono state messe in fila tutte le lettere supersiti di Leonardo e dal mio punto di vista ho cercato di riutilizzare questa ricerca in un'ottica materiale e grafica. Le lettere passate in rassegna da Marani sono 22, 18 autografe e 4 invece non di mano di Leonardo. Cominciamo proprio con queste ultime, ne esamineremo un paio. In questo caso però non punteremo l'attenzione sulle caratteristiche formali perché quelle caratteristiche dipenderanno dalle scelte degli scriventi e non dalle indicazioni fornite dal dettatore, cioè da Leonardo, ma potremmo esaminare rapidamente le scritture di qualcuno che lavorava per Leonardo. Allora, la prima missiva è una lettera molto famosa, è una minuta in realtà, in versione quasi definitiva, di una celebre lettera che Leonardo invia a Lodovico il Moro tra il 1482 e il 1485. Leonardo si candida ad una collaborazione con la corte, presentando una sorta di curriculum in cui vengono descritte le sue competenze militari, architettoniche, ingegneristiche. Leggiamone qualche passaggio. Mi esforzerò, non derugando a nessun altro, farmi intendere da vostra eccellenza, aprendo a quella li segreti miei ed appresso offrendoli tutte quelle cose che sub brevità in parte saranno qui sottonotate. Ho modo dei ponti leggerissimi ed forti, e tacti a portare facilissimamente, e con quelli seguire, e talcuna volta fuggire gli nemici. Ho ancora modi di bombarde, commodissimi ed facili a portare, e con quelle buttare minuti saxi, ad similitudine quasi di tempesta. Item farò carri coperti, securi ed inoffensibili. Et se alcuna delle sopradicte cose e alcuno paressino impossibile e infattibile, me offro paratissimo ad farne esperimenti nel parco vostro, o in quel luogo piacerà a vostra eccellenza, a dalla quale umilemente, quanto più posso, me raccomando. Secondo Marani, la scrittura e il contesto farebbero pensare alla mano di Bernardo Rucellai, raffinato umanista e tra l'altro marito di Nannina dei Medici, sorella di Lorenzo il Magnifico, che si trovava a Milano tra il 1482 e il 1485 e potrebbe aver convinto Leonardo a tentare di essere ammesso alla corte sforzesca. In realtà, però, se noi proviamo a confrontare questa scrittura e quelle delle numerose lettere del carteggio Rucellai giunte fino a noi, vediamo che c'è una notevole distanza. Di conseguenza, anche se sono necessari ulteriori approfondimenti, mi pare di poter dire che l'ipotesi Rucellai non possa essere accolta. Quanto invece alla seconda lettera, la lettera 17, ci porta molto più avanti nel tempo. Siamo nel 1515, nell'ultima fase del soggiorno di Leonardo a Roma, poco prima dell'ultimo e definitivo spostamento in Francia. Leonardo era giunto in città nel 1513, subito dopo l'elezione al papato del cardinale Giovanni dei Medici, figlio di Lorenzo, che aveva assunto il nome di Leone X, dando avvia a quella che fu una vera età dell'oro per umanisti intellettuali. Anche il fratello del nuovo papa, Giuliano, grande amante delle arti, si era trasferito a Roma e a metà di quell'anno inviò un messo a Milano per proporre a Leonardo di lasciare la città e porsi al suo servizio. Leonardo, che in quel momento viveva una situazione non facile, accettò subito l'invito senza esitazioni, registrando puntualmente in uno dei suoi manoscritti la data della partenza e i nomi di coloro che lo accompagnavano. Partì da Milano per Roma a D24 di settembre 1513, con Giovanni Francesco de Melzi, Salai, Lorenzo e il Fanfoya. Il viaggio fu abbastanza rapido. Dopo una breve sosta a Firenze per sistemare alcune questioni economiche rimaste in sospeso, la piccola brigata dovette giungere a destinazione nella seconda metà del mese di ottobre. A Leonardo e alla sua famiglia venne assegnato un appartamento presso il Belvedere, all'interno del Vaticano. L'appartamento messo a disposizione da Giuliano De Medici. A dire il vero, quella sorta di casa laboratorio non era ancora pronta quando lui arriva in città, visto che il primo dicembre di quell'anno l'architetto pontificio Giuliano Leno compilava una lista di lavori da eseguire nei palazzi vaticani e tra essi spicca un lungo elenco delle cose sanno a fare a bel vedere nelle stanze di Messer Leonardo da Vinci. Cose come restaurare un solaio, allargare una finestra, sistemare gli arredi, preparare un banco per i colori. La ristrutturazione venne realizzata in breve tempo e così Leonardo poteva riprendere la sua inesauribile attività di studio e ricerca e in quei mesi straordinari ebbe modo di confrontarsi con altri artisti eccelsi che per una congiuntura davvero irripetibile vivevano a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Raffaello, Raggiocondo, Bramante, Michelangelo. La lettera 17 di cui stiamo trattando è la minuta di una missiva che forse non venne mai spedita in cui Leonardo racconta un interlocutore non facile da identificare, un certo Messer Niccolò, forse il figlio del grande architetto Michelozzo, di aver incontrato grandi difficoltà presso la curia papale per recuperare un documento che riguardava il fratello fratellastro Giuliano. Messer Niccolò mio, da poi che io me ne partì da vostra signoria andai per vedere il registro se era assegnato il nome del mio fratello. Il libro non era lì. Io fui mandato in molti luoghi avanti che lo trovassi. Ultimamente andai dalla signoria del datario e gli dissi che io pregava a sua signoria, non avendo fatta assegnare la supplicazione, che domani la volesse fare leggere e farla assegnare. Sua signoria mi rispose che era cosa molto difficile e che la supplicazione domandava troppe cose. Qua non si possono fare e tanto più che il beneficio era di poca entrata e che se fosse cosa che importasse più si assegneria con poca difficoltà. Ho una certa impressione immaginare Leonardo alle prese con la burocrazia pontificia, mentre passava da una stanza all'altra della dataria apostolica, uno dei più importanti uffici della Curia, posto in un palazzo che si trovava sulla salita che porta da Fontana di Trevi al Curinale. Sorprendente poi è anche la risposta del datario al Dassarre Turini da Pescia, secondo il quale non si poteva fare nulla per assecondare una richiesta di beneficio di così piccola entità, mentre sarebbe stato più facile intervenire se la cifra fosse stata più alta. In ogni caso questa lettera costituisce un piccolo frammento di vita di notevole fascino, perché ci restituisce Leonardo in una dimensione umana e quotidiana. Quanto alla scrittura, Pietro Marani, con la scorta di una antica ipotesi di Girolamo Calvi, la assegna alla mano di Francesco Melzi, il discepolo cui Leonardo era più legato in quegli anni e che poi ebbe in eredità tutte le sue carte. E in effetti basta confrontare un esempio della sua scrittura con quella della lettera per concludere che questa attribuzione è del tutto convincente. Passando alle 18 lettere autografe, non ci troviamo, come dicevamo, mai di fronte a vere lettere, a lettera buona, a lettere che erano state spedite. Dunque abbiamo testimonianze a vario grado di elaborazione formale, nessuno pienamente compiuto, e per mettere ordine questo materiale magmatico ho pensato di distinguere tre tipologie testuali che peraltro segnano un progressivo avvicinamento alla forma lettera nella sua versione definitiva, ovvero i frammenti, gli abbozzi e le minute. Cominciando dai frammenti, con questo termine mi voglio riferire a tre esempi dati da brevissime porzioni di testo, caratterizzate da una scrittura trascurata da un impaginato irregolare, posti tra l'altro in fogli in cui ci sono tante cose di altro genere. E tra di essi merita particolare attenzione la lettera 5, costituita da due brevissimi lacerti testuali, databili a un periodo posto tra il 1493 e il 1497. Leonardo in quel momento a Milano, impegnato in un grandioso progetto, il monument equestre dedicato a Francesco Sforza, un'impresa straordinaria che però con il passare del tempo si andava chiaramente configurando come un sogno impossibile. In quel momento, nonostante i suoi molteplici impegni, decise di partecipare anche ad un concorso per l'esecuzione delle porte bronze del Duomo di Piacenza, che erano fortemente volute dal Vescovo della città. Per questa ragione iniziò a scrivere una lettera, poi rimasta incompiuta, da indirizzare a chi doveva decidere, a chi dare la commettenza, cioè ai fabbrici del Duomo di Piacenza. Di essa possediamo un abbozzo che corrisponde ad un'altra missiva, la lettera 4. Ed è interessante come in un passaggio di quella lettera, Leonardo, rivolgendosi a questa commissione, la invita a considerare attentamente le candidature che gli erano giunte, perché se erano fatte avanti molti artefici a suo parere incompetenti. Che maestro da boccali, chi di corazze, chi campanaro, alcuni sonaglieri, ensina bombardiere, guardate dove i miseri studiosi atti a simile opere sono ridotte, quando con simili omini hanno a gareggiare. Il discorso prosegue poi con un'argomentazione molto chiara. Questa occasione poteva divenire un motivo di gloria o di vergogna per la città, e dunque bisognava operare la scelta con molta cura. Il frammento che ci riguarda è costituito da due piccolissime aggiunte, destinata appunto a questa lettera 4, poste in un foglio in cui c'è un po' di tutto, al centro del margine inferiore, le due frasi che ci interessano, più in basso alcune considerazioni di idraulica, e sulla destra, per noi a sinistra perché l'immagine è riflessa, una serie di operazioni aritmetiche. Tornando alle due frasi, nella prima Leonardo sembra alludere a se stesso, manifestando apertamente il suo scetticismo sulla reale possibilità di chiudere il lavoro il cavallo di bronzo. Ecco uno, il quale il signore per fare questa sua opera a tratto di Firenze, che è degno maestro, ma tanta tanta faccenda non la finirà mai. Nella seconda va dritto al punto nodale della questione e difende il ruolo di promozione politica e sociale che è povere l'arte, avendo certamente negli occhi quanto era accaduta a Firenze qualche anno prima con Ghiberti e Donatello. Che credete voi che differenza sia vedere una cosa bella da una brutta? E subito dopo aggiunge, rivolgendosi probabilmente a se stesso, allega Plinio. Questo passaggio è importantissimo. Leonardo infatti sembra avere in mente un episodio raccontato nella Naturalis Historia, un testo che conosceva bene visto che compare nella sua prima lista di libri del 1487. Qui però sorge un dubbio. Possibile che l'uomo sansa lettere, per la sua mancata conoscenza del latino, era stato in grado di leggere l'opera di Plinio nella sua versione originale? Pare logico pensare che le cose andarono diversamente. Il Plinio di Leonardo era con ogni probabilità una copia del volgarizzamento realizzato da Cristoforo Landino e pubblicato da Niccolò Jensen a Venezia nel 1476. Ma a quale passo si riferiva Leonardo con Allega Plinio? Secondo Carlo Vecce voleva rimandare a un episodio celebre, quello della Venere di Cnido, la meravigliosa statua di Prassitele che per la sua fascinazione erotica attirava folle di ammiratori ed era così in grado di nobilitare la città, la comunità in cui si trovava. Dunque questa citazione è particolarmente preziosa perché dimostra che l'uomo senza lettere stava maturando un nuovo rapporto con le fonti classiche, cui certo accedeva in forma mediata, e si comportava come un umanista che per dare più forza al suo ragionamento si appoggia a grandi autori dell'antichità. Passando agli abbozzi, sono sei esempi posti in fogli interamente o prevalentemente dedicati alla comunicazione epistolare. Il carico testuale si fa più consistente. L'esempio sul quale mi voglio soffermare riguarda la lettera 19 che ci riporta ancora al periodo romano. Siamo intorno al 1515 e Leonardo, servendosi di un foglio di carta spessa e di cattiva qualità, accorpa alcuni studi di lunule a una serie di considerazioni per una missiva da inviare a Giuliano de' Medici. In un passaggio si dimostra molto seccato per il comportamento di un suo lavorante, maestro Giorgio Tedesco, appartenente a un gruppo di assistenti che collaboravano con lui ma erano pagati da Giuliano. Maestro Giorgio, infatti, si era dimostrato prontissimo a riscuotere lo stipendio all'inizio del mese, ma non altrettanto solerte nella sua attività di bottega. Andava a mangiare con la guardia dove, oltre allo star due o tre ore a tavola, in spessissima volta il rimanente del giorno era consumato, con l'andare con lo scoppietto ammazzando uccelli per queste anticalie. E se nessun de mia li entrava in bottega, li faceva lorra buffi e se alcun lo riprendeva, li diceva che lavorava per il guardaroba e nettare armature e scoppietti. Ma c'è di peggio. Lo sfaticato aiutante aveva anche il vizio di parlare delle tecniche elaborate da Leonardo per la lavorazione degli specchi ad un altro suo collaboratore tedesco, anche egli a servizio di Giuliano, Giovanni degli specchi, che nella lettera 22 viene accusato di aver cercato di soffiargli qualche segreto per sfruttarlo a proprio vantaggio. E questo faceva ancora perché quel giovane tedesco che fa gli specchi ogni dia era lì in bottega e voleva vedere e intendere ciò che si faceva. E se io mandavo Lorenzo a sollecitargli il lavoro, lui si scruciava e diceva che non voleva tanti maestri sopra il capo e che il lavorare suora per il guardaroba di vostra eccellenza. La questione può apparire di poco conto, ma bisogna tenere presente il fatto che Giovanni era un esperto nella lavorazione del vetro grazie alle competenze acquisite nelle botteghe artigianali tedesche che all'epoca erano le più avanzate in questo campo e che Leonardo in quel periodo era molto interessato a queste ricerche perché stava lavorando al progetto di un grande specchio parabolico, formato da una grandissima quantità di piccoli pezzi, utilizzabile per produrre calore, per usi industriali legati alla produzione della seta e anche per scopi militari, secondo quanto ha mostrato per esempio in questa carta del Codice Atlantico. Questa sorta di spionaggio industriale che si realizzava nel suo laboratorio quindi doveva infastidirlo particolarmente. Da ultimo arriviamo alle minute. Queste testimoniano di uno stato redazionale che è ancora provvisorio ma ormai molto vicino alla versione ultima, buono. Nove lettere collocate in fogli esclusivamente riservati alla comunicazione epistolare che mostrano un'impaginazione che si richiama più o meno direttamente a quella della forma definitiva. Tra queste spicca la lettera 14 indirizzata ad uno dei suoi discepoli più amati, già l'abbiamo citato poco fa, Francesco Melzi, che come abbiamo visto qualche volta aiutava Leonardo nella stesura delle missive. Melzi era nato nel 1491, aveva frequentato una scuola di alto livello, quella dell'umanista e filosofo Aulo Gianni parrasio e incontrò Leonardo per la prima volta quando aveva più o meno 15 anni, intorno a 1506. In questa lettera scritta all'inizio del loro rapporto, Leonardo che peraltro prova due diversi attacchi, nel primo di questi due tentativi dice cose di notevole interesse. Queste parole fanno emergere un profilo inusuale di Leonardo, che fosse un linguaggio rilassato, familiare, rimprovera scherzosamente il suo allievo perché non li aveva mai scritti in quei mesi e aggiunge però un esplicito richiamo alle tante lettere che lui nel frattempo gli aveva indirizzato, a conferma del fatto che Leonardo utilizzava frequentemente lo strumento epistolare. Siamo così giunti al termine del nostro itinerario, nel corso del quale abbiamo potuto modo di esaminare alcuni abbozzi di lettere di mano di Leonardo o di suoi collaboratori, lettere in forma di frammento, di abbozzo, di minuta, ma nessuna lettera scritta di sua mano è realmente inviata a qualche interlocutore. E a questo punto c'è da chiedersi, quelle lettere autografe, delle quali non resta traccia, erano scritte da sinistra a destra, come tutti i materiali che abbiamo fin qui preso in considerazione, o da destra a sinistra, secondo quello che accade talvolta per alcuni suoi scritti? Da parte mia credo che fossero possibili entrambe le opzioni e che la scelta di scrivere una lettera con andamento di scrittura da destra a sinistra o da sinistra a destra dipendesse dalla natura del destinatario. Si può apotezzare ad esempio che quando Leonardo si rivolgeva a qualche suo stretto collaboratore, era abituato a misurarsi quotidianamente con la sua scrittura sinistrorsa, continuasse ad adoperarla anche nelle lettere senza porsi particolari scrupoli. Diverso invece era il caso delle lettere inviate a persone che non appartenevano al ristretto insieme della sua famiglia, costituita da lievi, servi, personale di bottega. In quei casi, per un elementare principio di cortesia, l'orientamento di scrittura era probabilmente il nostro, quello convenzionale, anche perché Leonardo, come abbiamo visto, scriveva con uguale abilità in entrambe le direzioni. Al proposito, resta però un'ultima testimonianza da prendere in considerazione, particolarmente preziosa, poiché potrebbe costituire la parte iniziale di una di quelle lettere destrorse, andate irremediabilmente disperse. Si tratta di poco più di due righe, indirizzate al padre Piero, contenute la carta 178 verso del Codice Atlantico. Padre carissimo, all'ultimo del passato nebbi la lettera a me scrivesti, la quale in breve spazio mi dette piacere e tristizia. Piacere in quanto che per quella io intesi vuoi essere sano, dichenerendo grazie a Dio. Ebbi dispiacere, ebbi dispiacere, intendendo il disagio vostro. La lettera può essere assegnata a un periodo compreso tra il 1501 e il 1502. La brevità del testo, nel quale si fa cena ad un disagio vissuto dal vecchio notaio, forse riguardante le sue condizioni di salute e la presenza di un errore non corretto, la ripetizione della parola ebbi dispiacere, potrebbero far pensare che anche questa fosse una brutta copia, una minuta, ma l'andamento della scrittura destrorso costituisce un elemento assai rilevante a favore della tesi opposta. Possiamo quindi supporre che Leonardo aveva cominciato a scrivere una lettera buona da indirizzare al padre che non fu mai completata? Naturalmente non si possono avere certezza al riguardo, ma mi piace pensare che le cose siano andate proprio in questo modo. Se così fosse, potremmo dire che la nostra ricerca di lettere autografe confezionate da Leonardo, perché uscissero dal suo scrittoio, avrebbe compiuto il suo primo piccolo passo. Grazie.